Cinque anni fa una combinazione tragica, neve e terremoto, e mentre dall'altra parte del Gran Sasso si consumava l'enorme tragedia degli hotel di Rigopiano, spazzato via da una valanga con vite umane distrutte, 29, un dolore mai sopito, nell'Alta Valle dell'Aterno si faceva i conti con un'alta emergenza di grandi proporzioni, condita da terremoto, neve e paura. Fu una delle nevicate, quella più importanti degli ultimi anni, abbinata a scosse terribili di terremoto. La prima scossa nell'Alta Valle dell'Aterno ci fu la mattina, proprio in concomitanza con una nevicata abbondante, la gente scese in strada tra mille difficoltà e timori, i comuni coinvolti furono Campotosto, Pizzoli, Bariete, Cagnano, Capitignano e Montereale, in chi lo ha vissuto le scene di quei momenti ancora sono impresse nella memoria, il lago completamente ghiacciato, comuni isolati, un morto ad Ortolano, un signore travolto da una valanga mentre provava a uscire di casa, gente terrorizzata e un'emergenza che coinvolse anche tanti animali rimasti letteralmente intrappolati nelle stalle irraggiungibili, tutto mentre si consumava il fatto di Rigopiano, nell'Alta Valle dell'Aterno, il 18 gennaio di cinque anni fa, il terremoto riuscì a scandire un'intera giornata con quattro scosse fortissime, la prima di 5.1 con epicentro a Montereale alle 10.30, la seconda poco dopo alle 11.14 con epicentro a Capitignano e ancora più forte 5.5 e ancora sembrava non volersi fermare alle 11.25 nuova scossa 5.4 a Pizzoli e poi l'ennesima alle 14.30 5.0 con epicentro a Cagnano. L'emergenza maltempo abbinata alla terra che tremò peraltro impedì agli amministratori di quei comuni di capire subito l'entità dei danni perché tutto allora era coperto da tanta neve. A Montereale il sindaco Giorgi coinvolse l'esercito e convocò subito una riunione con tutti i sindaci. Il comune che ebbe più danni fu Campotosto che vide in pratica azzerato il suo centro storico. Dopo tutti questi anni almeno sono state rimosse le macerie e la ricostruzione di questi comuni, compreso Montereale, grazie anche all'impegno del commissario Legnini, si è sbloccata dall'impasse che l'aveva caratterizzata per alcuni anni. Cinque anni oggi da quella che è stata la tempesta perfetta per l'Abruzzo, il pensiero va alle vittime, ai familiari delle vittime, sicuramente momenti vissuti di grande difficoltà, difficoltà da parte di tutti, però abbiamo superato quei tragici momenti. A distanza di cinque anni possiamo dire che la ricostruzione è partita finalmente grazie all'impegno di tutti, in primis della struttura commissariale, degli uffici periferici, degli USR, dei comuni e grazie anche alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, del Fondo Complementare, sicuramente possiamo dare una svolta a quelle che sarà il futuro di questi territori, nella speranza che riusciamo a fermare questa emorragia di giovani che continuano ad andare via e questo non si può fare altro che creando lavoro in questi luoghi. Grazie.